Prosegue il ciclo formativo di Up to Youth, il percorso gratuito di accompagnamento professionale rivolto ai giovani con meno di 35 anni che vogliono realizzare la propria idea d'impresa. Promosso dal Comune, collega Coop Campania per Micro e l'Associazione per Micro Lab Onlus, il progetto si propone di implementare l'offerta formativa in materia di autoimprenditorialità e le opportunità di inclusione economico-finanziaria a favore dei giovani. Si rivolge a 315 ragazzi e punta alla creazione di 135 nuove imprese. Fare impresa non è un dato inizialmente conosciuto da tutti, potere fare i conti con chi ha le competenze tecniche, con chi ha le competenze professionali serve ad aumentare il numero dei successi e a ridurre in modo molto drastico il numero di coloro che non riescono a portare avanti il progetto, il sogno che hanno nel cassetto. Il secondo aspetto attiene le forme di credito, di sostegno all'impresa e all'autoimprenditorialità. L'esperienza di per micro, quindi di un fondo di microcredito, è un'esperienza importante consolidata anche nel nostro territorio, un alto livello professionale, un grande impegno etico e di sostegno a chi intende investire sul lavoro e sull'occupazione, un connubio importante per portare avanti di nuovo nel nostro territorio un processo di sviluppo dell'occupazione e del lavoro che consente a tanti ragazzi e a tanti ragazzi di rimanere a Napoli perché vogliono rendere questa città più bella, più felice e più ricca.